Adesso siamo in presenza di un secondo grande senatore del jazz, Dino Piana, trombonista, che ha incominciato a suonare in una banda di paese. Bravo, ti dirò che anche i trombonisti americani, tanti musicisti americani hanno incominciato nelle bande, Rosolino, Chet, Chet Becker, suonava nella banda. Incominciamo a parlare di questo. Io ho suonato nella banda da bambino e suonavo la tromba, ma da bambino avrò avuto dieci anni. Poi la banda si è sciolta perché c'era la guerra in quel periodo lì, io sono del 30, perciò si è sciolta la banda e si è sciolto tutto. Allora, fine guerra, ripresa la banda, allora io mi sono presentato di nuovo con la mia tromba perché ero innamorato allora della tromba. Dopo guerra avevo ascoltato poi Harry James e tutti questi film che arrivavano dall'America, i music, diventavo matto. Due ragazzi marinai. Bravo, se non che vado in banda di nuovo, mi chiama, allora Dino facciamo di nuovo la banda. Benissimo, però non suoni più la tromba. E perché? E perché adesso ci sono le trombe che c'erano prima, vogliono risuonare, se ne sono aggiunte altre che sono tornate dal militare e allora tu suonerai il trombone. Ah ma mi frega, beh prendo il trombone. E allora mi sono messo a suonare il trombone. Ecco perché suono il trombone a pistoni, perché allora nelle bande non c'era il trombone a culisse, nei paesi poi, proprio. E allora ho incominciato con il trombone a pistone e facevo proprio l'accompagnamento, il trombone d'accompagnamento, basta suonare. E questa cosa è andata avanti e poi sentivo dischi. E un giorno ho scoperto il jazz. Ma l'ho scoperto così, a mio modo. E quando ho scoperto che poi in America i tromboni a pistoni c'erano e comeno Bruckmeier, Boben e Bolzen, Minor Ferguson. E allora dico, ma allora è una cosa che si può fare. Perché avevo il dubbio io, essendo un trombone a pistoni, dalla banda, ma questo qui che è che è? Ormai si vedevano i tromboni a culisse, i tomi d'orso, i rosolino. E invece no. E io mi sono poi innamorato proprio del trombone a pistoni, proprio come pimbro, come fraseggio. Sì, perché è un fraseggio, ma diverso. Particolare, particolare. Che viene dalla tromba in fondo. Perché se uno ha suonato la tromba e sono le stesse posizioni, è un'ottava bassa. Allora, due domande in una facciamo. Evidentemente suonando il trombone a pistoni, che è una rarità in Italia, effettivamente importantissimo. Perché sono rimasti veramente in pochi, erano già pochi. E io credo sia rimasto Brockmeyer, Rob McConner, che in Canada, purtroppo Minor è deceduto, Minor Ferguson. Non conosco altri. Ma credo che in Italia sia un unico da parte tua per quanto riguarda il jazz. Chi ti ha influenzato di più, perché a un certo momento l'influenza avrai più sentita di questi qua, e poi se, essendo nato tu, subito, anche per quelli che hai nominato, con il jazz moderno, se hai avuto difficoltà, perché essendo decollato il jazz in ritardo in Italia c'era soprattutto il tradizionale. Certo, perché io non ho avuto la possibilità di praticarlo, perché nel 1948, così, abbiamo subito incominciato a suonare la musica da ballo. Perché poi suonavamo musica da ballo, ma le musiche americane, Begin the Begin, tutte queste cose, io il tradizionale non l'ho fatto. Mi dispiace, perché è una bella palestra, anche quella per il jazz, anzi, è una tradizione importante. Però non ho avuto questa possibilità. Allora abbiamo subito iniziato a suonare il, diciamo, il californiano, il classico West Coast, e con Gianni Basso, con Oscar, che poi è venuto dopo, che poi sono entrato a far parte del loro gruppo. E chi mi ha influenzato sono stati Rosolino, anche se Rosolino è il primo che mi ha steso, proprio come l'ho sentito suonare, una tecnica spaventosa. E poi Brookmeyer, e poi Minor Ferguson, e Bob Benevolse, questi, Kay Winding, questi sono i musicisti che mi hanno influenzato all'inizio. J.J. Johnson dopo mi ha fatto cambiare il modo di pensare anche, perché J.J. ha dato una svolta totale al trombone in generale e proprio al fraseggio del trombone moderno. E allora poi ho trovato un compromesso mio, non lo so se è giusto, se è sbagliato. Comunque è tutto, ho ascoltato molto, questo sì. Ecco, tutto un trombonista moderno, arrivato al jazz verso, al jazz vero, insomma verso la fine degli anni 50, anche dopo? Anche dopo, perché dopo la coppa del jazz, perché io ho fatto la coppa del jazz, la coppa del jazz mi ha aiutato molto come lancio. Hai mai avuto delle tentazioni di jazz informale, di free jazz? Sì, le ho avute e ho fatte, ho anche delle esperienze, perché negli anni 58, 59, io sentivo Ornette Coleman, sentivo i primi dischi, lui con il trombettista Don Cherry, e mi entusiasmava la cosa. E io mi ci sono buttato anche a fare di queste esperienze con Gaslini. Poi ho capito che non era la mia strada, ero imbevuto già di cool jazz, io non volevo bleffare, perché capivo anche che c'era molto bluff in quel contesto. C'è chi, facciamo il free jazz, no, non è così, non era così. Questo è molto vero. Non era così, perché quello che aveva fatto Ornette Coleman era una cosa interessante, a me interessava, però non ho avuto l'abilità, oppure perché avevo una tradizione dietro. E poi c'era un contesto fasullo attorno a questo free jazz e io non l'ho seguito più. Quindi sei tornato alla consonanza e ci sei tutt'ora. Sì, sì. E' quella che mi è più congegnata. Se adesso dovessi esprimere qualche preferenza attualissima, questa è l'ultima cosa che ti chiedo, chi ti verrebbe in mente, anche di altri strumenti a fiato, non occorre che siano per forza trabonisti. Certo. Ma sai, quando ascolti dei personaggi come Capispola di allora, è dura dopo a trovare dei musicisti che ti diano delle grosse emozioni, perché io dopo col tren, e col tren anche lì mi ha dato una rivolta nel cervello musicalmente, oggi ci sono dei giovani che suonano bene, per esempio Petrella è un trombonista che è italiano, è bravo, fa delle cose interessanti, ritmicamente, però per me le guide sono là, non ci sono più purtroppo. non ho più sentito un musicista che mi abbia fatto cambiare proprio da dire, beh questa è una cosa che mi porta via, mi porta con sé, no, sono rimasto i col tren, i Davis, i JJ Johnson, sinceramente, perché io là ho trovato tutto e penso che ci sia tanto, tanto là, che ancora non siamo arrivati.